Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 tratto chiuso verso nord per lavori tra Bio 1 Variante e Aglio fino al 19 di questa sera. Per la mobilità resta coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna e coda per traffico tra Bio 1 a 11 e Firenze Scandicci. In A11 restano coda per traffico verso Firenze tra Monte Cadeni Terme e il Bibio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. In FIPD per traffico coda a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione mare e rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!